Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 132esima puntata del podcast di Marcos Box. Domani mi tocca fare il padrino, quindi posso dire di essere il padrino. Ho detto così è bruttissimo. Vabbè. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero open source. E questa volta farò anche una piccola capatina a moda di Windows per rilamentarmi per i miei soliti bug. Ma iniziamo proprio da questi bug. Lo so, lo so, lo so. Non è un argomento inerente al mondo del software libero open source, ma è un argomento riguardante il nostro arcinemico Microsoft. Che negli scorsi giorni ha rilasciato un aggiornamento corposo per Windows 10 e Windows 11. In particolar modo l'aggiornamento per Windows 11 denominato 22h2. Questo aggiornamento corposo di Microsoft ha introdotto, o meglio, non ha introdotto. ha rimesso delle funzionalità essenziali che erano state tolte per, non so, per quel diavolo di motivo Microsoft aveva deciso che sarebbe stata cosa buona e giusta eliminare alcune funzionalità, tipo il drag and drop sulla barra delle applicazioni. Non lo so, per quel motivo Microsoft è tutto inizialmente il drag and drop sulla barra delle applicazioni su Windows 11. Cioè, ma tu utilizzi il computer, lo utilizzi, voi lo utilizzate, voi che siete di Microsoft, lo utilizzate il computer per lavorare. Non lo so, che cosa vi è venuto in mente. Vabbè, comunque, l'ha introdotto in questo nuovo aggiornamento, poi ha fatto qualche altra piccola modifica. per esempio, la possibilità di creare delle cartelle all'interno del menu start, nel menu start di Windows 11, una delle cose più mal progettate che ci sono, che io abbia mai visto nel corso degli ultimi anni, ha poi introdotto qualche modifica, qua e lì, per le notifiche. Insomma, ha fatto un aggiornamento corposo del codice, però ha introdotto, perché un'altra cosa che ha introdotto, ad esempio, è stata quella di possibilità di installare, anche in Italia, tramite lo store di Microsoft, l'Android Subsystem, come diavolo ha chiamato, insomma, la possibilità di installare lo shop di Amazon per Android, quello che troviamo preinstallato sui Kindle, per poter installare alcune applicazioni Android presenti su questo shop, che sono sempre emulate, perché tramite l'Android Subsystem, come diavolo ha chiamato lì, adesso mi sfugge il nome, che è una funzionalità sulla carta interessante, però praticamente inutile, perché, ditemi voi, quale necessitavete di installare delle applicazioni da quello store? Quale tipo di applicazioni vuoi installare? Frutti Ninja? Non lo so, perché poi esiste, mi sembra, mi sembra che esiste anche già all'interno dello store Microsoft. Non lo so, non lo so, non volevo introdurre questa cosa qua, per far vedere i fighi, perché noi Microsoft abbiamo Linux Subsystem, abbiamo Android Subsystem, abbiamo Subsystem per qualsiasi cosa, manca soltanto quello per Mac OS. Comunque, dicevamo, hanno aggiunto comunque delle cose corpose e dettagli all'interno del codice, in una seconda fase vedremo poi altre cose interessanti, tipo le schede all'interno dell'Esplora Resource, che dovevano essere introdotte inizialmente, ma sono state rimandate. Però, come da tradizione, ad ogni aggiornamento Microsoft immette nuovi bug. Io personalmente ho trovato una serie infinita di bug, sono stato affetto dal bug delle schede video Nvidia con GeForce Experience installato, sono stato affetto dal bug che è stato segnalato nelle scorse ore, ma mi è capitato praticamente immediatamente che la stampante non mi veniva più, non mi dava più stampa, ho dovuto rimuovere e riaggiungerla, e poi ho avuto anche, sto avendo un bug che mi sta causando dei rallentamenti proprio nella gestione del computer. Ogni tanto mi si frizza, cioè, non è che mi si frizza, andando a controllare, vedo che le risorse del disco vengono saturate al 100% anche sull'SSD, non so che cavolo sta facendo in quel momento, non ho capito bene se è colpa dell'antimoware, non ho capito, l'antimoware è incluso all'interno di Windows 11, non ho capito bene se è colpa dell'indicizzazione dei file, perché con questo aggiornamento viene resettata, e da quel che vedo vi sto parlando oggi 30.09.2022, mi sta ancora facendo l'indicizzazione dei file, da quando ho fatto l'installazione. Ovviamente è colpa di questo aggiornamento di Windows 11, questi problemi non sono problemi hardware, perché ho testato, l'ho rimosso, e quindi ho visto che continuo a fare, cioè, se vado a rimuovere questo aggiornamento, questo bug mi sparisce. Quindi questa parte del podcast, questa prima parte del podcast, vuole essere anche un reminder, del futuro, di tieniti alla lontana da Microsoft il più possibile, schifalo, sputalo. Cerca assolutamente di non essere più dipendente dai prodotti Microsoft in ambito lavorativo, ma anche di gaming, non ce la faccio più. Tutti io li trovi bug Microsoft, tutti io, vabbè, trovo anche quelli Linux, però quelli di Microsoft sono assurdi. Possibile che Microsoft, ad ogni aggiornamento di Windows, ad ogni service pack, introduce bug, perché deve introdurre sempre bug nuovi e bug anche fastidiosi? La lista dei bug di questo aggiornamento è lunghissi, cioè, i bug stanno segnalando schermate blu della morte, stanno segnalando un sacco di problemi. Chi devo testare gli aggiornamenti di Microsoft? Chi lascio lo testare soltanto agli insider con computer surface? Non lo so, fatemi capire come funziona la vicenda, come funziona l'andazzo, com'è l'andazzo all'interno del mondo Microsoft. Vabbè, fatemi sapere se anche voi avete aggiornato Windows 11 e avete avuto di questi problemi. Lo so che la maggior parte di voi sono tutti quanti estremisti che utilizzano soltanto Linux, però c'è qualcuno che so che è costretto a lavorare con Windows e quindi, di conseguenza, è costretto a beccarsi bug e quant'altro. E se, come me, avete Windows 11 e avete paura di aggiornare, non aggiornate. Non aggiornate. Tenetevi ancora la vecchia versione di Windows 11, non installate l'ultimo update, quello di settembre, ma soprattutto se avete ancora Windows 10, se avete un'installazione di Windows 10, non passate a Windows 11. Mi sono accorto che, guardando qua e là, la maggior parte di streamer, di gente che ci lavora con il computer, sta continuando a rimanere su Windows 10. E un motivo ci sarà, è perché Windows 11 è buggato, buggatissimo. Vabbè. Passiamo alle notizie dal mondo di Linux, che è meglio, che poi, come diceva sempre quel professore dell'Università di Bari, che il mio amico citava sempre, amava ripetere i suoi studenti, questo professore illuminato, santo, lo dovrebbero fare, diceva, coltivate Linux che Windows si pianta da solo, e c'era ragione. E dopo esserci lamentati di Microsoft Windows, che come ricordo è sempre cosa buona e giusta, passiamo adesso al mondo delle distribuzioni Linux e apriamo le danze parlando di KDNN, il cui rilascio del nuovo rebase basato su Ubuntu 22.04 è ormai pronto, è ormai a riaporte. Come ben saprete, su Ubuntu 22.04 troviamo Firefox in formato Snap. La presenza di Firefox in formato Snap non piace a molti utenti, e non piace nemmeno a quelli di KDNN, perché va a rompere l'integrazione di Plasma Browser, anche se ne è complesso, comunque funziona bene con gli ultimi miglioramenti che hanno apportato quelli di Canonical e anche più veloci nell'avviarsi, quindi diciamo che potrebbe essere, poteva essere una soluzione accettata. Poteva perché? Perché cosa è successo? È successo che il team di KDNN è un memoria dei problemi dovuti alla versione Snap di Firefox, memoria del fatto che molti non l'amano, memoria del fatto che ci sono problemi con l'integrazione di Plasma Browser, e hanno deciso di lanciare un sondaggio, hanno deciso di lanciare un sondaggio tra i propri utenti mediante il profilo Twitter ufficiale, e hanno chiesto se rilasciare subito il rebase di KDNNN con Firefox in formato Snap, oppure prendersi un altro paio di settimane per lavorare su altri formati di pacchetto. Il sondaggio lanciato lo scorso 26 settembre si è chiuso da poco, e il team di KDNNN ha deciso di accontentare il popolo che ha chiesto a gran voce di utilizzare un altro formato di pacchetto e arriva poi di poche ore fa una dichiarazione del team di KDNNN che ha annunciato che hanno fatto lo Switch KDNNNN, è passato a Firefox nella versione del repository PPA di Mozilla quindi sulla nuova ISO di KDNN sul nuovo aggiornamento di KDNN sul rebase basato su .22.04 avremo Firefox in formato tradizionale quindi installato da questo repository hanno anche chiesto adesso agli utenti di testare il tutto per segnalare eventuali problemi e se siete utenti KDNN fateci un pensierino partecipate a questo test e fate sapere come va la cosa anche se tra i primi commenti che sto leggendo su Twitter sembra che tutto vada per il verso giusto come logico che sia però questa cosa mi fa un po' pensare mi dà un po' da pensare per una cosa perché diavolo quelli di KDNNN non hanno cercato di stringere una collaborazione con quelli di Mozilla o con quelli di Linux Mint mi spiego meglio quelli di Linux Mint come ben saprete da qualche tempo a questa parte hanno deciso di stringere una collaborazione con Mozilla per fornire una versione di Firefox all'interno della propria distro il più possibile Vanilla quindi senza personalizzazioni di motore di ricerca pagine principali e quant'altro quindi per fornire un Firefox più puro possibile più come mamma l'ha fatta bene a questo punto perché quelli di KDNN non hanno citofonato a quelli di Linux Mint per chiedere una collaborazione e si sono rivolti alla fanbase potevano fare un accordo avrebbero guadagnato tutta la comunità a mio avviso e sarebbe stata anche una cosa carina in modo tale da non avere problemi perché sto PPA mantenuto da questi qua bisogna vedere come verrà mantenuto da chi è mantenuto e quant'altro vedremo su lungo periodo come si comporterà vabbè comunque e visto che stavamo parlando di Linux Mint come non parlare dell'ultimo recappone che Clement, Clem, Lefebvre il fondatore nonché esegruppatore principale di Linux Mint ci ha regalato nelle scorse ore come ben saprete ad ogni fine mese Clement, Clem, Lefebvre pubblica sul blog della distro un recap di tutte le novità nel mondo di Linux Mint nonché alcune anticipazioni su cosa ci aspetta nei prossimi mesi per il mese di settembre sono stati fatti diversi annunci e sono state introdotte si sono state spiegate diverse novità che verranno introdotte a breve sulla distribuzione il primo annuncio riguarda il nome in codice della prossima versione di Linux Mint Linux Mint 21.1 avrà il nome in codice vera e verrà rilasciata attorno a Natale quindi si conferma la solita tabella di marcia per quanto riguarda le novità bene troviamo delle novità nella guida utente adesso la guida utente è stata aggiornata con l'introduzione di nuovi argomenti argomenti che sono anche interessanti ad esempio è stato aggiunto un capitolo su come rimpostare una password dimenticata uno su come disabilitare il Bluetooth 3B uno su come realizzare una chiavetta USB drive di Windows o una chiavetta USB multiboot per quanto riguarda i pacchetti che sono stati aggiornati Blumen è stata aggiornata la versione 2.3.2 su Linux Mint 21 e Timeshift 22.06.5 è stato backportato da Linux Mint 21 su Linux Mint 20.x quindi anche per chi non ha fatto ancora aggiornamento all'inux Mint 21 potrà beneficiare di queste novità delle novità delle correzioni di bug introdotte su su Timeshift sono state poi fatte alcune modifiche al software source a seguito della deprecazione a monte di apt-key di sicuro vi sarete accorti dei problemi nell'aggiunta di PPA di terze parti su Linux Mint su Linux Mint 21 ebbene il software source ha dovuto adesso subire una serie di modifiche che gli consentono di riaborare in modo in cui viene gestita la gestione delle chiavi PPA aggiunte adesso quando viene aggiunto un PPA di terze parti la sua chiave è accettata solo per il PPA stesso non globalmente per tutte le soggetti di apt questa modifica breve arriverà all'interno dei repositori di Linux Mint 21 come un'altra modifica che arriverà all'interno dei repositori di Linux Mint 21 riguardo ai driver manager che è stato migliorato con alcune modifiche che vanno aumentare la sicurezza degli utenti quando si va ad aggiornare i driver adesso il gestore dei driver viene eseguito anche in modalità utente in modo tale che non è più necessario una password per avviarlo è stato devconf adesso è adeguatamente supportato e questo era un problema per esempio per chi andava a installare i driver Nvidia quando si corbutta era abilitato package kit è stato aggiornato alla versione più recente per ricevere la possibilità di eliminare i pacchetti cioè quindi non solo di rimuovere i pacchetti ma anche di rimuovere i file di configurazione è stato modificato il comportamento adesso quando si va driver manager va a eliminare i driver va a eliminare completamente i driver e tutti i pacchetti questo perché è stata fatta questa modifica perché adesso per esempio poteva capitare di passare da una versione all'altra del driver di Nvidia e ci potevano essere dei problemi per quanto riguarda i conflitti dei pacchetti l'interfaccia utente poi di driver manager è stata anche migliorata poi è stato riprogettato il supporto all'installazione di driver in modalità offline in modo tale da rendere l'installazione dei driver wireless broadcom più semplice di prima poi sono state fatte alcune modifiche allo strumento di verifica dell'ISO adesso è molto semplice verificare l'autenticità e l'integrità di un'immagine ISO prima di scriverla su una chiavetta ci basterà fare clic con il tasto destro sull'immagine sull'ISO e di scegliere la voce per verificare un tour apposito si occuperà di fare la verifica e quindi di andarci a dare tutte le informazioni state fatte poi qualche modifica per quanto riguarda il formattatore di chiavette usb e lo scrittore dell'immagine ISO è stata aggiunta praticamente a questa lottug allo scrittore dell'immagine ISO è stato aggiunto il pulsante per fare la verifica che va ad avviare di fatto lo strumento di verifica migliorate poi qualche interfaccia utente e infine ma è una cosa che potrebbe importare a pochissimissimi di voi potrebbe importare a tutti di quegli utenti che odiano le icone su desktop ecco non sono stavo pensando non sono pochissimi perché nella vita nella vita reale ma anche nella vita digitale mi sto accorgendo perché ci sono sempre più odiatori delle icone su desktop ecco che cazzo non devo dire parolacce che domani devo fare ragazzi ho un po' credito ho dato un po' tecnico dicevo devo dire parolacce domani devo cresci marri mi nipote allora dicevo che stavo dicendo stavo dicendo di probare le icone sul desktop le icone sul desktop ho visto che ci sono tante personcine a modo che odiano le icone sul desktop e sono molte le personcine a modo che odiano le icone su desktop non capisco che male vi facciano le icone sul desktop ho visto che questa cosa è tipica soprattutto degli utenti linux poi è stata portata all'estremizzazione da quelli di gnome che hanno tolto tutte le icone sul desktop ecco i pinguini sono persone che hanno questo problema con le icone sul desktop oh mi sto dilungando top l'ultima modifica che verrà implementata su linux mint riguarda le icone del desktop che saranno nascoste per impostazioni predefinite nelle versioni future computer home cestino e rete non ci saranno più su desktop home perché è già presente come launcher nel pannello e come preferito nel menu principale computer cestino e rete non sono utilizzati poi così spesso e sono comunque facilmente accessibili nel file manager e quindi il team di linux mint ha deciso di pulire tutto mi viene da fare una butta battuta perché le icone di linux mint fanno così schifo che preferiscono nasconderle però poi ci sto pensando e ripenso al fatto che comunque gli sfondi di linux mint fanno così schifo che loro preferiscono farli vedere ancora di più queste cose non si quadrano tra di loro comunque naturalmente i file collocati nella cartella desktop rimarranno visibili così come i dispositivi montati e ovviamente questa modifica riguardante le icone del desktop che saranno nascoste per impostazioni predefinite sarà modificabile quindi tutto sarà configurabile e sarà possibile ripristinare il tutto e dopo aver parlato della derivata più famosa di ubuntu parliamo di ubuntu parliamo della distribuzione nella quale deriva gnux mint il team di ubuntu ha annunciato il rilascio della versione beta di ubuntu 22.10 nome in codice kinetic kudu quale sono le novità principali di questa versione beh avrete già scorse negli scorsi mesi quando la versione era ancora in fase cioè quando ubuntu era ancora in fase alfa in fase embrionale ubuntu 22.10 nell'edizione principale porta con sé gnome 43 nel suo solito mix di applicazioni aggiornate e non sapete bene come fanno quelli di ubuntu non aggiornano mai tutto il cucuzzaro gnome 43 introduce una serie di novità che abbiamo visto la scorsa settimana che spaziano per esempio un uomo in menù delle impastazioni rapide miglioramenti del file manager e quali là new entry tra le applicazioni preinstallate su ubuntu 22.10 troviamo il nuovo editor di test di gnome introdotto con gnome 43 se non ricordo male non era con 42 che avevo introdotto vabbè comunque che va a sostituire l'edit altra novità riguarda il server audio predefinito con l'arrivo di wire plumber per migliorare ancora di più la gestione audio scusate lato poi caratteristiche peculiari della distro dovremmo trovare all'interno delle impostazioni di sistema un nuovo pannello per modificare il comportamento della ubuntu dock che è stato migliorato e vabbè poi le solite modifiche aggiornamenti del parco software del stack hardware e quant'altro ovviamente per maggiori informazioni sulle novità di questo rilascio e per il link al download vi rimando l'annuncio ufficiale che è stato pubblicato sulla mailing list di ubuntu e vi ricordo ovviamente che oltre a ubuntu sono stati aggiornati anche i suoi flavors ufficiali che a questo giro si sono arricchiti di un nuovo flavors ufficiale che è stato già aggiornato se non ricordo mai è già stato fatto il comunicato stampa quasi congiuntamente al rilascio di quello ufficiale di ubuntu di ubuntu unity la nuova il nuovo flavors ufficiale che utilizza unity caro e vecchio amato tanto amato dai nostalgici unity e fateci un pensierino provatelo fatemi sapere che cosa ne pensate se questa è soltanto un'operazione a marcord nostalgia o se secondo voi è ancora senso utilizzare unity nel 2022 quasi 2023 oh e sapete bene che quando si parla di ubuntu succedono sempre polemiche però è un dato di fatto ubuntu è una delle distro più amate utilizzate a livello globale l'amava anche sheldon cooper vi ricordate in big bang theory quando dice ubuntu your my favorite linux based system e a quanto pare piace a tutti piace anche a quelli di amazon molti di voi di sicuro non conosceranno i servizi non esiste un servizio di amazon di amazon web service chiamato amazon workspace che cosa serve workspaces serve per la distribuzione di desktop virtuali in modo sicuro e su larga scala dare poi la propria forza da lavoro per potersi lavorare e quant'altro fino ad oggi con amazon workspaces avevamo la possibilità di scegliere fra due sistemi operativi microsoft windows e amazon linux a partire da oggi l'offerta di amazon si arricchisce grazie all'aggiunta di ubuntu desktop e questo considera agli utenti di avere più scelta di abbracciare anche nuove categorie di carichi del lavoro perché è stata fatta questa scelta l'ha citato proprio amazon nel suo nel suo comunicato stampo ufficiale sul blog ufficiale di amazon web service beh secondo l'hacker earth 2020 developer survey ubuntu il sistema operativo più utilizzato agli sviluppatori professionisti molti sviluppatori ingegneri devops hanno una serie di script che utilizzano strumenti librerie che utilizzano alla loro regolarmente quindi hanno chiesto a gran voce di poter avere questo ambiente anche su su questo servizio di amazon e quindi hanno deciso quelli di amazon di accontentarli fatemi sapere se voi siete se avete provato questo servizio che cosa ne pensate se siete felici di questa di questa decisione fra l'altro una cosa molto importante che va sottolineata è che tutti quanti ubuntu workspaces beneficeranno di ubuntu pro che include il supporto per patch di sicurezza estese per 10 anni quindi ottimo per chi ci lavora in determinati ambiti di data science iot cloud e quant'altro e vuole una distribuzione stabile sicura longeva per quanto riguarda le patch di sicurezza e quant'altro quindi ottimo lavoro amazon grazie per aver preso in considerazione ubuntu ma sapete cosa piace anche agli utenti ubuntu oltre che lavorare piace anche giocare ma questo piace immagino anche a tutti quanti gli utenti linux e c'è una buona notizia per tutti quanti gli utenti linux all'ascolto il gruppo internazionale sviluppatore di giochi volontari wildfire games ha annunciato il rilascio di 0d alpha 26 ehm zwangz beh come si pronuncia eppure sta scritto da sopra ma non riesco a leggere quelle cose strane che pronuncio ehm zwangz la 26esima versione alpha di 0d 0d lo conoscete di certo è un gioco di strategie in tempo reale gratuito open source di guerra antica disponibile per windows e per linux mi sembra che dovrebbe esserci anche una versione per mac però non ho mai approfondito non essendo le tonte mac è un gioco a legge un par giusto per darvi un metodo di paragone per farvi capire che tipo di gioco è questa nuova versione di 0d prende il nome dall'antico filosofo cinese Zhuangzù meglio conosciuto come Zhuangzi non so perché Zhuangzi si chiama Zhuangzi vabbè è l'autore di uno dei più dei testi più influenti del taoismo questa nuova versione introduce una nuova civiltà chiamata Yi Han nuove mappe per le campagne cioè il bacino di Tarim e Yangtze aggiunge anche l'accelerazione durante gli spostamenti delle unità quindi quando muovete un gruppo di unità alcune magari potrebbero andare un po' più lente altre un po' più veloci quindi che mancano indietro te li vedi gli omini che non sembra una cosa tutta strana che si muovono tutti agonismo ma si muovono tutti per fatti loro come il catechista l'altro giorno quando hanno fatto l'inchino durante le prove per il catechismo ognuno andava per fatti suoi vabbè è chiuso e aperto la parentesi ci sono 26 nuove tracce musicali e poi ci sono miglioramenti nelle texture e nei modelli 3D ovviamente per una panoramica completa di questa novità vi invito ad andare sull'articolo che ho pubblicato su Marcosbox dove trovate anche un video che vi mostra queste novità in azione l'ultimo argomento di questa 132esima puntata del podcast di Marcosbox riguarda una guida che è stata postata dal nostro caro Luca che spiega come impostare un timer per lo spegnimento automatico la guida è stata realizzata sia per Linux che per Windows e spiega appunto come poter tenere sotto a bada gli sprechi di corrente evitando di tenere acceso i PC più del necessario magari i nostri cari computer fisiche sono molto energivori e di questi periodi visto l'andazzo conviene risparmiare sulla bolletta elettrica fatemi sapere che cosa ti pensate di questa guida lasciate un commento se anche voi siete utilizzate questi metodi o se utilizzate anche altri tool o altre cose per poter fare per poter fare il tutto la guida è semplice e utile perché vi spiega come farlo direttamente da terminare quindi più facile di così non si può ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 132esima puntata del podcast di Marcos Box come sempre vi ricordo di seguirmi sui social mi trovate sulle principali piattaforme quindi trovate la pagina facebook trovate il profilo personale di facebook potete aggiungermi accetto l'amicizia da chiunque trovate il profilo twitter la pagina youtube mi trovate su linkedin con il profilo personale mi trovate soprattutto su telegram con tre canali con tre tre bolli per seguire c'è il canale principale di Marcos Box su telegram che potete utilizzare anche un po' di feed rss qualora non vogliete utilizzare i feed rss che metto a disposizione sul blog trovate poi il canale dedicato alla community di Marcos Box dove potete iscrivervi anzi vi invito faccio un appello iscrivetevi numerosi non si parla soltanto di linux quindi c'è anche il cazzeggio generale non è una community spammona quindi non vi preoccupate non è di quelle classiche community telegram dove entrate non riuscite a capire non siete più a prestare i messaggi sono tutti ragazzi in gamba che sanno darsi dei limiti e sanno che non devono rompere il scatto magari alle 3 del mattino con dei messaggi inopportuni trovate poi inoltre un canale telegram dedicato alle offerte di Marcos Box offerte Amazon che potete utilizzare per poter supportare il blog se acquistate da uno dei link referral che posso all'interno di quel canale telegram sapete bene Amazon mi dà una piccola percentuale dei ricavi ovviamente potete utilizzare anche il mio codice referral Marcos Box trattino 21 su Amazon quando acquistate per poter supportare il blog in questa maniera vi ricordo infine che potete supportare anche il blog utilizzando una VPN se utilizzate una delle tre principali VPN quindi Nord VPN Surfshark e Atres VPN utilizzando i link al referral che trovate su Marcos Box trovate un banner sulla destra hai bisogno di una VPN ci cliccate sopra trovate i tre link referral e se avete intenzione di rinnovare il vostro servizio VPN di una delle suddette VPN oppure abbonarvi da zero a una delle tre suddette VPN utilizzando il mio codice referral potete supportare il blog perché questi tre servizi hanno deciso di supportare di accettarmi tra i support support vabbè ci siamo capiti lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo alla prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box l'unico podcast con un autore che non sa nonostante parlare da anni non riesce a dire le parole come si diceva quella parola di prima non lo so vabbè ciao ciao